E' appena terminato il sopralluogo del ministro Danilo Toninelli sul viadotto Puleto. Il ministro è sceso con i dirigenti ANAS fino al cantiere per fare il punto e ha auspicato che il traffico, che la E45 venga presto riaperta al traffico pesante. Le notizie sembrano essere buone. Come avete visto il cantiere di ANAS sta andando avanti. Entro 30 giorni si potrà, mi dicono, consegnare alla procura un'altra perizia sulla tenuta di questo viadotto e probabilmente, non dipende dal sottoscritto ma dipende dalla procura, probabilmente poche settimane e si potrà riaprire anche i mezzi pesanti e far tornare, io dico, finalmente alla normalità questo territorio che vede tantissimi spostamenti su questa tratta stradale. E' 45 dunque presto percorribile anche per i mezzi pesanti. I sensori ci sono, gli autovelox anche, ma sono vuoti, lo confermano i vertici ANAS, rispondendo alle domande dei giornalisti. A livello di deterrenza abbiamo montato dei gabbiotti autovelox e abbiamo ordinato gli autovelox perché quella è un'operazione che si può fare in un mese. E per la vecchia Tiberina Trebis, in queste condizioni dagli anni 90, arrivano notizie confortanti. Abbiamo già l'appaltatore con cui abbiamo già parlato, è in approvazione il progetto e questo avverrà giorni e quindi insomma siamo pronti a partire. Non in tempi immediati, non in tempi immediati, io se dovessi fare un'ipotesi nel giro di un mese potremmo già partire con i lavori. Non sono mancate anche le polemiche, un gruppo di cittadini sono stati allontanati dal luogo dove si teneva la conferenza stampa. Capire, vorremmo far capire al ministro che qui c'è un'emergenza e va dichiarata l'emergenza nazionale va sistemata la vecchia strada che c'è qui, che è stata abbandonata da oltre 20 anni e inoltre chiediamo che sia fatta una commissione di inchiesta parlamentare sulla gestione del tratto toscano dell'E45 perché è uno scandalo. Qui sono stati spese centinaia di milioni di euro e si è arrivati a chiudere la strada. La visita del ministro Toninelli in terra retina era iniziata a Ponteburiano e qui ha risposto anche alle polemiche innescate con Renzi. Sono 150 milioni di soldi destinati alla Toscana che sono stati destinati poche ore prima dell'approvazione di una legge di Renzi, di Del Rio, che definiva un piano nazionale degli aeroporti poche ore prima che fanno un contratto di programma che andava al contrario del piano nazionale. Evidentemente c'è un sistema di gestione dei soldi che non andava bene. Se mi vuole portare in tribunale mi fa una cortesia perché dovrà dire come mai tra il giorno e la notte hanno approvato un provvedimento che andava in contrasto con un altro provvedimento fatto da loro stessi.